Ciao, io sono Irene e questo è il podcast di Italiano Bello. In questo podcast troverai tanti episodi in italiano semplice, quindi se stai imparando l'italiano e se ti piace quello che pubblico, sono contenta di darti il benvenuto sul podcast di Italiano Bello. Se vuoi scaricare una lezione gratuita sul tempo, su come parlare del tempo in italiano, guarda il link nella descrizione di questo episodio e scarica la lezione gratuita. E ora cominciamo! Ciao, eccoci di nuovo sul podcast di Italiano Bello. Ecco una macchina che passa, questo rumore era una macchina, un'automobile, perché come sapete registro questo podcast mentre cammino, mentre cammino per la città e quindi si sentono dei rumori. Ecco, ecco un'altra macchina che è passata. E oggi vorrei parlare della città dove sono adesso, della città dove sono ora, Bruxelles. Infatti, se hai ascoltato l'ultimo episodio, il numero uno, sai che io non abito in Italia, non vivo in Italia ora, vivo in Belgio. E dove vivo? In Belgio vivo a Bruxelles. Bruxelles è la capitale del Belgio, cioè la città più importante, la città anche più grande del Belgio. Vivo a Bruxelles in Belgio e ora sto camminando per le vie di Bruxelles. Come sai, se hai ascoltato la puntata numero uno di questo podcast, sai che io vivo in Belgio da tre anni, quindi sono già tre anni che abito in Belgio, che vivo in Belgio, ma presto mi trasferirò, cioè lascerò il Belgio e tornerò in Italia con la mia famiglia. Se vuoi sapere perché, ascolta l'episodio numero uno. Ma oggi vorrei parlare di un'altra cosa, vorrei parlare di Bruxelles e del Belgio più in generale, perché mi dispiace andarmene, sono un po' triste di lasciare questa città e questo stato e quindi vorrei parlare un po' di quello che ho trovato qui in Belgio, di quello che mi è piaciuto, di quello anche che mi è piaciuto un po' meno e lo faccio qui. Siamo stati tre anni, dicevo, a Bruxelles in una casa molto bella. A me piace molto la casa che abbiamo qui, è una casa in affitto, cioè non è una casa nostra, non l'abbiamo comprata, è una casa in affitto, quindi ora quando lasceremo il Belgio lasceremo anche la nostra casa, non è nostra, non è comprata, è in affitto. È una casa molto bella, mi piace molto, ha delle finestre larghe, alte, ampie e entra il sole quando c'è, perché come forse sai in Belgio non c'è spesso il sole, il cielo spesso è grigio, bianco e quindi ai Belgi piace molto avere finestre grandi, così quando c'è la luce entra, entra tanta luce e questo piace molto anche a me, mi piace molto avere delle finestre ampie, una casa luminosa, cioè una casa che si riempie di luce, può accogliere molta luce del sole e quando c'è il sole il Belgio è bellissimo, tutto si illumina, tutto acquista una luce nuova, i colori risplendono, è molto bello, quindi la nostra casa qui mi piace molto e mi dispiace lasciarla, sono un po' triste. Poi cos'altro si può dire del Belgio? È una terra strana, una terra particolare, perché anche se lo Stato è uno, il Belgio è uno Stato, però al suo interno ha due popolazioni differenti, ci sono i valloni e i fiamminghi, i valloni parlano francese come i francesi, invece i fiamminghi parlano olandese come gli olandesi, quindi ci sono due popoli, due lingue anche se lo Stato è uno e poi in Belgio ci sono anche molti africani, molti arabi, molti cinesi, è uno Stato molto internazionale, ci sono persone da tutto il mondo, soprattutto a Bruxelles, non in tutto il Belgio ci sono africani, arabi, cinesi, ma ce ne sono molti a Bruxelles. Infatti è molto bello perché quando cammini per le vie di Bruxelles può capitare di vedere un quartiere, cioè una zona della città, un posto nella città, un quartiere che è arabo oppure un quartiere che è africano ed è molto bello perché sembra quasi di fare un viaggio in Africa o in Polonia o in Cina, è molto bello e in quella zona della città puoi trovare ristoranti per esempio africani, puoi trovare negozi, supermercati africani che vendono cibo africano, vedi tante persone africane vestite al modo degli africani, è molto bello, sembra di viaggiare in terre diverse anche se la città è una sola, Bruxelles. Questo mi piace molto questo aspetto internazionale, multiculturale di Bruxelles e mi mancherà. Anche in Italia ci sono africani, arabi, cinesi e stranieri da tutto il mondo che abitano in Italia, ma a Bruxelles ce ne sono molti di più. Come sai a Bruxelles c'è la sede del Parlamento europeo, Bruxelles è un po' la capitale dell'Europa, a Bruxelles i parlamentari prendono le decisioni sull'Europa, si riuniscono, fanno le loro riunioni, si trovano tutti insieme e parlano dell'Europa. Quindi Bruxelles anche per questo motivo è una città molto internazionale, ci sono anche molti europei, non belgi, che abitano a Bruxelles. Ci sono anche molti italiani a Bruxelles, non siamo i soli, non siamo gli unici italiani a Bruxelles, ce ne sono tantissimi. Infatti è facile camminare per le vie di Bruxelles e sentire altre persone che come me, come noi, parlano italiano. È un po' è un po' strano perché siamo in Belgio, ma può capitare che al supermercato, mentre faccio la spesa, sento una famiglia di italiani. È molto strano. Queste sono le cose che mi piacciono del Belgio. Mi piace anche l'accoglienza dei Belgi. Cos'è l'accoglienza? Accoglienza è quando siamo ben disposti verso l'altro, verso gli stranieri per esempio. Ecco, i Belgi secondo me sono un popolo molto accogliente, cioè sono aperti, sono disponibili, sono gentili, simpatici, buoni con tutti. Forse perché i Belgi, come ho detto, sono abituati ad avere tante persone che arrivano da tutto il mondo. Già i Belgi non sono tutti uguali. Ci sono i valloni e i fiamminghi, ma poi, come dicevo, ci sono tanti stranieri che abitano in Belgio e quindi i Belgi sono molto aperti e accoglienti. Quindi mi piace molto l'accoglienza del Belgio. Abbiamo trovato tanti amici belgi che ci hanno accolti, che sono curiosi di sapere cosa c'è di diverso in Italia, sono curiosi di conoscere la nostra lingua, l'italiano e quindi è stato molto bello da questo punto di vista dell'accoglienza. Una cosa che mi piace un po' meno che non mi piace molto del Belgio è il clima, il tempo. Il clima, il tempo è quanto fa caldo, quanto fa freddo, se c'è il sole, se piove, se ci sono le nuvole, questo è il clima. E in Belgio diciamo che il sole non si vede spesso, il sole c'è raramente. E questo è un po' triste anche perché in Italia invece il sole c'è spesso, fa spesso caldo e quindi ho trovato un po' difficile abituarmi all'assenza di sole. In questi tre anni sono stata a volte un po' triste perché il sole non si vedeva per lunghi lunghi mesi, magari per tre mesi interi il sole non si vedeva e questo è un po' difficile se non sei abituato. E quindi mi manca un po' il sole italiano e sono contenta di ritrovarlo presto. Ah, ora che mi viene in mente, se ti interessa l'argomento del clima, del tempo, trovi un link nella descrizione di questo podcast e puoi con quel link scaricare una lezione gratuita registrata da me sul tempo. Quindi in quella lezione parliamo del tempo, dei giorni della settimana, del clima, no scusa non del clima ma del tempo inteso come ore, minuti, secondi, giorni, mesi e quindi se vuoi sapere di più su come si parla del tempo in italiano, ecco, ti invito a scaricare quella lezione sul tempo. Bene, ho parlato tanto, ho detto cosa mi mancherà del belgio, cosa mi piace, ho detto cosa non mi piace o cosa mi piace un po' meno e ci vediamo, anzi ci sentiamo presto per un prossimo episodio del podcast di Italiano Bello. Ciao! Ciao, grazie per aver ascoltato questa puntata. Se la puntata ti è piaciuta, condividila con i tuoi amici, con qualcuno che sta studiando l'italiano come te. Non dimenticarti di scaricare la lezione gratuita sul tempo e noi ci sentiamo giovedì con un prossimo episodio. Ciao ciao! Ciao! Ciao!